La Mercedes-Benz di Stoccarda si presenta con un mucchio di novità sul Salone Internazionale dell'Automobile. Una delle macchine più impressionanti del Salone è senza dubbio la Mercedes-Benz SLS AMG. Con i suoi 571 CV abbina un massimo di sportività con eleganza esclusiva. Richiamo visivo sono le porte ad ali di Gabbiano. Prima mondiale anche per la i350 CD i4 Matic. La modella abbina efficienza ed eleganza. Di più è presentata la classe B con una cella da combustibile. Con la S400 Hybrida Mercedes-Benz presenta la prima vettura a lusso con motori hybrida. Abbiamo sviluppato un motore ibrido modulare. La S500 Plug-in Ibrida indica il nostro futuro. Il consumo sarà ridotto a solo 3.2 litri. E' quasi nulla per una macchina da lusso. Questo sarà lo scopo per noi di creare macchine che siano e sicure, e ecologiche ed economiche. Con la Vision S500 Plug-in Ibrida, la Mercedes-Benz presenta la prima vettura a lusso con motori 3 litri. La Blue Zero E-Cell Plus è un modello futuro con motori elettrici. La Smart E-Drive è stata ritocata e sarà in vendita da novembre. La Maybach Zeppelin è un altro vetta del produttore di lusso estremo. Simbolizza la cima attuale della produzione. Come on!